Thomas Eceverri, il primo titolo in Italia. Quanto sei contento? No, molto felice. La settimana va molto, molto bene al tennis. Sto molto felice con il mio equippo. Partiti molto complicati. E oggi la finale aveva troppo vento e mi pude adattare molto bene. E a disfrutare ora. E domani pensiamo in tutti. A chi la dedichi? Per chi è questa finale? Pensavo partito in partito, punto per punto. E ogni volta mi senti migliorando durante la settimana. Hice finale doble con Renzo Livo. E' una settimana straordinaria per me, per la confianza, per quello che viene. E' un regalo per Carlo, non? Si. Il primo. Veniamo facendo un lavoro, dal principio del anno, molto buono. Entrenando molto forte e confiando molto in lui. E che abbia stato qui mi ha aiutato molto. E ganiamo il nostro primo titolo. Felicitazioni, Thomas. Grazie. Grazie. Grazie.